Si dice che i gemelli vivano in simbiosi, un legame indissolubile in grado di resistere anche alle beffe del destino, agli abbandoni, alle separazioni e riemergere come una sorgente d'acqua occlusa per troppo tempo dal dolore. E' quanto accaduto a Mario e Carlo, nati il 9 gennaio 1963 al Policlinico di Bari, adottati a 11 mesi da due famiglie diverse e cresciuti rispettivamente a Terlizzi e Mariotto. A 13 anni dalla loro nascita e dal loro allontanamento, Mario e Carlo si sono riconosciuti a bordo di un bus diretto a scuola, scoprendo per puro caso di essere gemelli eterozigoti. Eravamo diventati talmente inseparabili, da quel momento che ci siamo iniziati a frequentare non si è capito più un cavolo di niente. Mario, dopo aver riabbracciato suo fratello, ha iniziato ad avvertire nelle vene il desiderio di conoscere la donna che le ha messi al mondo. Carlo, invece, non è mai stato della stessa idea. Se la dovesse trovare, tua madre, tu un domani vorresti incontrarla? No, no, nessun interesse, né oggi, né domani, né dopodomani. Una storia surreale degna di un film raccontata sulle nostre pagine di telebari.it fin dall'inizio e che, data lei comediatica ricevuta a livello nazionale, chissà che non possa concludersi con l'incontro della loro madre biologica. Non vedi l'ora, eh? Eh sì, con l'ansia.